I magi che si sono messi in cammino verso Betlemme sono il ritratto del credente, dell'uomo che ha una santa nostalgia di Dio, mentre Rode non può adorare Dio che nasce tra noi perché continua ad adorare se stesso e i sacerdoti non lo adorarono perché non erano disposti né a camminare né a cambiare. Così Papa Francesco nell'intenso melia della Messa della Solennità dell'Epifania, celebrata nella Basilica Vaticana. I magi, ha spiegato il Papa, non si sono lasciati anestetizzare il cuore grazie alla loro santa nostalgia di Dio che si ribella di fronte ai tanti profeti di sventura, una nostalgia che rompe i conformismi e che ci spinge a impegnarci per il cambiamento. Il credente nostalgioso come i magi va in periferia, in frontiera, nei luoghi non evangelizzati per potersi incontrare col suo Signore e non lo fa affatto con un atteggiamento di superiorità, lo fa come un mendicante e capisce come i magi che non deve cercare il re che nasce in un palazzo superando il culto del potere, dell'appartenenza e della superiorità, l'audacia per loro, ha concluso il pontefice, e scoprire che lo sguardo di questo re sconosciuto non umilia, non schiavizza, non imprigiona, ma rialza, perdona e guarisce. Scoprire che Dio ha voluto nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non lo vogliamo o dove tante volte lo neghiamo. I magi sentirono nostalgia, non volevano più le solite cose, erano abituate a suoi fatti e stanchi degli erode del loro tempo, ma lì a Bethlehem c'era una promessa di novità, una promessa di gratuità. Lì stava accadendo qualcosa di nuovo. I magi poterono adorare perché ebbero il coraggio di camminare, e postrandosi davanti al piccolo, postrandosi davanti al povero, postrandosi davanti all'indefesso, postrandosi davanti all'insolito e sconosciuto bambino di Betlehem, lì scoprirono la gloria di Dio.